Senti Luca, una curiosità, questa mola ha questo spessore, questa mola ha un'altra altezza, ma questa qui ha un altro spessore. Perché devo usare questa al posto di questa? Come faccio a scegliere cosa cambia? Purtroppo molti prendono questa qua in modo tale che gli permetta di poter lavorare più spessori di vetro. Cosa vuol dire più spessori? Magari qua sotto ci lavorano un vetro sottile e qua sopra un vetro più largo, pensando di risparmiare. Invece non è così, perché ogni mola è stata concepita proprio per lavorare quel tipo di vetro. Questa è un'altezza 10 e è fatta proprio per lavorare il vetro che può andare dal 3 all'8 mm. Questa invece è stata concepita per lavorare un 15, un 19. Non puoi usare un vetro sottile su una mola fatta in questo modo, perché cambia la miscela, cambia un sacco di ingredienti che non possono essere usati. Cioè mi cambia l'efficacia della lavorazione? Sì, dura meno invece che durare di più. Cioè dura meno la mola? Si consuma di prima la mola. Uno pensa di risparmiare, invece alla fine non risparmia niente, anzi, perde soldi, perde tempo. Ciao a tutti!